Esiste una suora americana, la sorella Buder, che tanti anni fa ha iniziato a correre e appassionarsi alla gara Ironman, che è una di quelle gare più estenuanti, estreme che esistono al mondo, dove c'è corsa, nuoto, bicicletta. Ha vinto da poco la categoria 80-84 anni per primo premio di questa splendida gara sportiva che viene fatta ogni anno agli Hawaii. Un anno questa suora aveva deciso di partecipare a questa gara e quel giorno soffiava un vento veramente forte, questa era una suora veramente magrolina, piccolina. Il vento a un certo punto l'aveva sollevata e era diventata quella che venne chiamata la suora volante. Era stata scaraventata sugli scogli, si era fatta male e lì tutti preoccupati per il suo stato di salute e per l'assicurazione che non copriva oltre quella età i partecipanti a questa gara estrema. L'anno successivo, per il suo 81esimo anno di età, aveva deciso di riscriversi a questa gara, ma gli fu impedito, proprio visti i precedenti. Lei decise quell'anno che per fare la gara Ironman o per correre e fare tutto quel percorso estremo non avrebbe avuto necessità di una pettorina. Disse, sapete che c'è? Questa è l'America, è uno stato libero. Io se voglio posso correre, nuotare, andare in bicicletta senza necessità di essere per forza iscritto con una pettorina a alcuna gara. Questa è una di quelle storie a cui negli anni mi sono ispirato quando ho pensato allo sforzo che avrei dovuto fare fuori dal mio paese, alle lotte che avrei dovuto portare avanti contro tutto e tutti, contro le lobby, contro le categorie, contro chi mi avrebbe criticato. Per protesta mi sono cancellato dall'ordine dei medici italiani proprio per dimostrare che non hai necessità di essere iscritto ad alcun ordine per informare le persone in maniera corretta. Tu puoi semplicemente aprire internet e dare informazioni oneste alle persone e aiutare queste persone con le sole informazioni. Questi sono degli impianti dentali, sono di Claudia, una paziente del Policlinico che abbiamo tolto qualche mese fa dalla sua bocca, una vita passata a lavorare per il dentista. Claudia ha passato praticamente gli ultimi 20 anni a ripagare debiti, prestiti che ha contratto per potersi permettere le cure sanitarie nel suo paese e non ha alla fine ottenuto un miglioramento significativo del suo stato di salute, ma anzi negli anni la sua malattia non ha fatto altro che andare avanti e peggiorare. Questo è un impianto dentale. Un impianto dentale è fondamentalmente una vite in titanio che viene inserita dentro all'osso e va a simulare quella che è la radice di un dente che è andata persa. Esistono di tante marche. Questi impianti dentali hanno dei costi che oscillano dai 30, 40 fino ai 350 euro. Quello per cui io mi sono battuto questi anni è far capire alle persone che non esiste solo A e B, esiste anche C. Delle volte nello stato in cui vivi non esiste neanche B o ti fanno credere che non esiste alternativa, che l'unica soluzione è curarsi privatamente. Io non me la prendo mai con i medici che sono tartassati dalle tasse, dal sistema tassativo che tassa due volte la sanità. Io me la prendo contro il grande assente. Il grande assente è il sistema pubblico che non c'è. Non si fa altro di parlare di quali siano i prezzi giusti, quanto minimi possono essere i tarifari, ma non si parla invece di ciò che dovrebbe essere garantito a ogni cittadino, ovvero un servizio 5 stelle sanitario a tutti i livelli. Parlo di otorino-laringoiatra, parliamo di oculista, parliamo di cardiologo, di cardiochirurgo, parliamo di odonto-protesista, l'odonto tecnico che dovrebbe essere statale, pagato dallo Stato per fornire gratuitamente le protesi ai dentisti che vengono pagati dallo Stato. Un impianto dentale, mediamente, rivela l'Andi, ha un costo rilevato sul territorio nazionale che è intorno ai 1.650 euro, compresa chiaramente la capsula. Noi operiamo in un paese dove possiamo offrire gli stessi servizi, nonostante questo riusciamo a pagare un'equipe di 70 persone, a pagare gli odonto-tecnici, a pagare le tasse comunali, le tasse statali del 12%. Nonostante questo riusciamo a caricare veramente poco di margine, oltre al costo effettivo della manodopera e di attività della struttura e dei materiali. Se noi togliessimo anche le tasse ti assicuro riusciremo a arrivare al 90% in meno rispetto ai costi del tuo paese. Se noi possiamo farlo, anche il tuo paese potrebbe farlo. Quando si dice che la sanità è costosa, è mezza verità. La sanità è costosa a seconda del modello di sanità che si costruisce. È possibile avere una sanità gratuita per tutti. I soldi ci sono, l'Italia è uno dei paesi che paga più tasse al mondo. Il problema è dove vengono direzionati quei soldi. Questa battaglia non l'avrei mai potuta fare dal mio paese. Per questo ho tolto la pettorina, sono andato fuori per correre in solitario contro tutti e ho incontrato le persone migliori durante questi anni che la pensano come me e che assieme a me hanno fatto quella stesura della dottrina che dovrebbe essere la sanità per i prossimi 20 anni. Ho scritto un libro che parla di come dovrebbe essere strutturata la sanità i prossimi 20 anni e quest'anno stiamo realizzando il primo gruppo consumatori sul territorio nazionale europeo che lotta per il diritto umano alla salute. I pazienti sono molti di più dei medici. La categoria per esempio dei dentisti sono 45 mila persone associate ma esistono 60 milioni di potenziali malati che possono anche loro associarsi, fare gruppo e avere il loro dentista, il loro medico dipendente che offre loro i servizi gratuiti, magari pagati dallo Stato. L'obiettivo è quello di fare massa critica. Per questo abbiamo steso la prima petizione europea che ha lo scopo di sensibilizzare verso il vero tema di cui bisogna parlare, ovvero non di quanto debba costare e sia etico un listino prezzi di un medico, ma rimettere in discussione il fatto stesso che un medico debba avere un listino prezzi. Questo ci serve per far prendere alle persone coscienza di quelli che sono i temi giusti da trattare, di quelle che sono le domande giuste che le persone dovrebbero farsi e portare avanti in Europa quella che è la richiesta di finanziamento del primo progetto europeo, di quella che potrebbe essere definita una sanità di crowdfunding che mai è stata realizzata al mondo. Una sanità sostenuta dal basso, una sanità costruita con l'intelligenza collettiva e non decisa da poche persone. Io faccio sempre questo esempio, mai avrei potuto realizzare da solo questo sogno qua in Moldavia. Sono riuscito a farlo perché ho avuto dietro una squadra, perché ho avuto dietro feedback, oltre 2000 feedback di persone che ci hanno consigliato le cose da mettere dentro e quello invece da tenere fuori. Il mio cervello contro 2000 cervelli mai avrebbe potuto ottenere tutto questo. L'intelligenza collettiva è un grande tema dell'era dell'informazione, quando tu metti un computer ha una certa potenzialità di calcolo, ma quando tu metti in parallelo 100 unità di calcolo ti assicuro che quello che salta fuori è una potenza travolgente che può veramente cambiare in meglio, e ripeto, in meglio questo mondo. I prossimi 20 anni saranno gli anni per cui noi dobbiamo lottare, non ci interessa scendere a compromessi con nessuno, noi vogliamo la sanità gratuita, defiscalizzata. Non lottiamo per i minimi tariffari, ne sosterremo mai le tesi che la sanità non possa scendere oltre certi limiti di costo. Andiamo oltre, rompiamo certe barriere mentali proponendo una sanità inaspettatamente 4.0 e gratuita per tutti. Siamo di fronte alla delocalizzazione dei servizi oggi per un motivo. La vera domanda che bisogna farsi non è se i pazienti che si curano all'estero stiano facendo una cosa giusta o sbagliata, la vera domanda che dovremmo farci facendo un passo indietro è perché le persone vanno all'estero a curarsi. Il motivo è che oggi molti credono che la sola opzione e i propri problemi sia una. In realtà c'è un grande assente di cui non si parla. Rifletti su tutto questo.